Finalmente anche su GVolt c'è la possibilità di poter acquistare account sia per PS4 che per Xbox che per PC con crediti all'interno Fatelo ragazzi, quindi affrettatevi e utilizzate anche il codice coupon DAW per avere uno sconto Ciao a tutti ragazzi, sono Davide Vitovuti in questo nuovo video Ragazzi sono usciti finalmente dopo 6 settimane Che ogni martedì abbiamo completato diciamo le sfide facili Perché erano veramente molto facili per ottenere il pack da 125 con un TOTS assicurato Vi ricordo che il pack è assolutamente non scambiabile quindi in realtà non potremmo andare a rivendere i nostri giocatori Però ragazzi oggi andremo ad aprirne ben due, quindi due pack da 125 con un TOTS all'interno assicurato Più un pacchetto con un TOTS scambiabile che ho vinto nel torneo Sull'altro account ancora non l'ho discusato quel torneo quindi lo vedrete comunque nei prossimi giorni quindi no problem E oggi ragazzi dobbiamo subito andare ad aprire due pack veramente incredibili Allora vi sono tenuto qua un bel po' di pacchetti da aprire nei prossimi giorni ragazzi Quindi superiamo il 2000 mi piace per avere un pack opening carichissimo ma veramente carico E ragazzi ecco qua i nostri due pack da aprire e poi ci spostiamo sull'altro account per aprire un altro ultimate Allora io direi di partire prima da questo e poi vediamo l'ultimate che è quello bello corposo Attenzione ragazzi, subito un bel mi piace, seguitemi sul mio profilo instagram Dav93 e partiamo Speriamo in un workout perché questo è scambiabile e potremmo vendere il giocatore che ne ho trovato all'interno Attenzione 3, 2, 1, via No ma come non è workout dai dai che schifo quando ti danno quelli scambiabili ti danno pisarro gli scandali Mamma mia che schifo non vale assolutamente niente cioè è inutile neanche il controllo quanto vale 20.000 E lo dovremo tenere per qualche sfida quindi lo inviamo al club regale nei prossimi episodi di altri pack opening Naturalmente vi porterò altre sfide scambiabili magari dei TOTS assicurati Ci siamo è il momento del primo dei due pacchetti ultimate 30 giocatori tutti oro e rari Un TOTS è assicurato Speriamo che almeno sia workout ho visto delle foto su internet che girano di gente che ha trovato 5-6 workout Cioè robe incredibili a me ne basta uno forte solo questo vi chiedo Attenzione siamo pronti andiamo regà lasciate il mi piace portatemi bene Please pacchetto ultimate workout dai e questo è sicuro Vediamo se ce n'è più di uno si ce n'è oddio più di uno sicuro Attenzione chi è questo è tedesco A.T. Silva dovrebbe essere lui Attenzione regà non è male No si è lui 91 di ovelo gli altri potrebbero essere buoni eh Attenzione ha delle ottime stats perché è veramente fortissimo lo usano in parecchi Anche come centrocampista l'ho visto utilizzato Guardate là ho 94 passaggi 96 tiro 95 dribbling e 89 di fisico Regà questo è un ottimo giocatore Andiamo all'animazione successiva quella in cui vediamo gli altri team of the season Perché ce n'è sicuramente un altro forse 3 Vediamo Attenzione Vediamo insieme Oddio Oddio Quanti sono? 5 Regà Questo è un signor pack Stindol Lemar Herrera Ederson E benedetto Regà Lemar Stindol Herrera Tantissima roba Gli altri due Vabbè ci stanno Poi abbiamo Martinez Spianic Pedro Che ci servono tantissimo per le sfide Regà sono veramente ottimi giocatori ma che pacchetto Che pacchetto Mamma mia 5 tots Stindol Lemar Herrera Regà veramente i primi 3 sono tantissima roba Ottimo ottimo regà Teniamo naturalmente tutto E ci spostiamo sul secondo account nella speranza di andare a scurrare anche in quello Ok ci siamo spostati e abbiamo nuovamente il pacchetto ultimate Regà abbiamo trovato 5 tots in un pack Dai non vi chiedo robe incredibili Però anche su questo almeno uno buono Attenzione Andiamo anche con questo Carichissimi 3 2 1 Anche qui lasciate un bel mi piace E partiamo Workout anche qua Dai Please dammelo buono Ti prego Dammelo Oddio anche qua Due ce n'è qua Ne ho vissi due eh Brasile No dammelo buono Fortier No ancora Ederson Ma no Il più forte 89 No Ma regà Ederson 89 Ha statistiche veramente impressionanti Ma non mi puoi dare più forte 89 Chi è l'altro vediamo Speriamo un altro forte Please Bello Beluzoglu Ma chi Ma Emre Questo giocava all'Inter Beluzo Questo finisce dritto dritto in una squad Bill in charge proprio facilissima Poi il resto Shaka La porto 84 83 Ottimi per Fare le sfide Raga Ma qua male eh Però Devo dire che abbiamo trovato 7 tozzi in due pacchetti Io non mi lamenterei Io non mi lamenterei Anche se diciamo che era il pacchetto proprio facile per trovarli eh Ragazzi Fatemi sapere cosa avete trovato voi qua sotto nei commenti Lasciate un bel mi piace Andate a seguirmi sul mio profilo Instagram Dav93 E ci vediamo nei prossimi giorni per il nuovo episodio delle vostre squadre per il full champions Visto che è l'ultima settimana E soprattutto altri pacchopering relativi ai team of the season assicurati Io vi saluto Ci vediamo con un prossimo video ragazzi Un bel mi piace Bella Ciao